il focus del webinar di oggi è incentrato sul time management in questa pillola formativa che abbiamo pensato di predisporre cercheremo di affrontare prevalentemente che cosa vuol dire la gestione del tempo ma soprattutto quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per gestire il tempo quindi faremo prima un minimo di introduzione possiamo dire così più di natura concettuale sul concetto appunto di tempo per poi arrivare invece a definire degli strumenti che ci possono essere appunto utili la prima cosa che ritengo utile approfondire è proprio questa distinzione che vediamo in questa slide ovvero il tempo ha un significato diverso a seconda se noi consideriamo quello che viene definito il tempo oggettivo dal tempo soggettivo cerco di spiegarmi meglio e in questo mi faccio anche aiutare dalla lingua greca che ha in realtà utilizza in realtà due termini che sono diverse tra di loro e hanno anche dei significati profondamente diversi mentre noi nella nostra lingua italiana usiamo un unico termine per definire il tempo appunto la parola tempo i greci utilizzano la parola kronos kronos anzi per meglio dire per definire il tempo oggettivo che cosa intendiamo con tempo oggettivo il tempo oggettivo è il tempo scandito dal sorgere del tramontare del sole dal passare dei giorni dal trascorrere delle stagioni il tempo sostanzialmente che noi tutti misuriamo attraverso l'orologio infatti se ci facciamo caso il termine cronometro la parola appunto questa definizione kronos tempo oggettivo quindi un tempo uguale per tutti in qualche modo convenzionale se diciamo ci vediamo tutti quanti alle 6 l'orario 6 è uguale per tutti ovviamente poi dipende da paesi dove ci possono essere diverse interpretazioni di antemeridiano post meridiano però quello è un altro è un'altra accezione ma diciamo il tempo scandito dagli orari è per tutti quanti oggettivo poi c'è un altro tipo di tempo che è il tempo soggettivo che i greci chiamano kairos che cos'è il tempo soggettivo? sostanzialmente il tempo soggettivo è quel tempo al quale noi attribuiamo un significato ovvero il tempo che per noi ha un valore, ha un'importanza ed è quindi diciamo così il tempo che per noi è significativo che ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi e a portare avanti i nostri progetti questa distinzione è molto importante e interessante perché ci dà già una prima possibilità di comprendere che cosa poi vuol dire gestire in maniera efficace il tempo andando avanti possiamo poi ulteriormente fare delle distinzioni considerando ad esempio un'altra giornata quindi di 24 ore dove poi 24 ore intendo il tempo chronos quindi quello convenzionale possiamo dividere questo nostro tempo, questa nostra giornata di 24 ore in tre parti come dividiamo poi queste tre parti ovvero quanto attribuiamo di importanza a queste tre parti dipende ovviamente da ciascuno di noi quali sono queste tre parti? abbiamo un tempo indispensabile, un tempo lavorativo e il tempo libero il tempo indispensabile è il tempo che tutti noi usiamo per fare le cose fondamentali per la nostra sopravvivenza ovvero dormire, mangiare, poi ci sono tutta un'altra serie di attività che sono sempre fondamentali ad esempio spostarsi, ad esempio andare a fare la spesa ci sono tutta una serie di situazioni dalle quali non possiamo prescindere possiamo modificare certe tempificazioni di alcune attività ma sicuramente non possiamo prescindere abbiamo poi il tempo lavorativo, il tempo lavorativo che è scandito da un scenario che può essere quello definito dall'organizzazione di appartenenza oppure un tempo che noi decidiamo di dedicare e poi abbiamo il tempo libero, il tempo libero che è il tempo per fare quello che più ci piace ad esempio stare con le persone care, con gli amici, con i familiari, fare un'attività sportiva, praticare un hobby ecco, la prima suggestione che si può cominciare ad avere è proprio come divido la mia giornata di 24 ore rispetto a queste tre macro categorie di tempo stiamo attenti che il tempo indispensabile, dove possiamo anche ridurlo a quello per mangiare e quello per dormire non è sacrificabile, nel senso che ci vuole comunque un tempo adeguato per fare delle cose che ci servono per poi poter fare tutto il resto ora, fatte queste premesse ci rendiamo conto che in realtà la traduzione letterale di time management quindi la traduzione in italiano di time management ovvero la gestione del tempo ci rendiamo conto che è un po' impossibile da fare proprio perché il tempo non è gestibile abbiamo visto che il tempo comunque scorre soprattutto quello kronos quindi quello oggettivo quello scandito dagli orari e da anche eventi naturali e quindi che cosa vuol dire sostanzialmente gestire il tempo beh, possiamo dire che il time management in realtà è la gestione delle azioni da collocare nel tempo quindi è come facciamo a gestire nel modo più efficace possibile le cose che dobbiamo fare nel tempo che abbiamo a disposizione quindi nel tempo dato ci sono anche appunto poi come vedremo degli strumenti che ci possono aiutare a fare questo è interessante questa contrapposizione tra questi due elementi che ho messo nella slide ovvero alcune caratteristiche del tempo il tempo è limitato incontrollabile irrecuperabile invariabile contrapposta invece a come sono le attività quindi alcune caratteristiche delle attività cioè le attività che dobbiamo fare nel tempo quindi nelle ore che abbiamo a disposizione possono essere in realtà illimitate sono controllabili perché possiamo decidere come gestirle come allocarle come collocarle nel tempo sono recuperabili quindi vuol dire ad esempio che se facciamo un errore sicuramente possiamo porre un rimedio correttivo all'errore quindi sono appunto recuperabili sono variabili quindi non è che tutti i giorni facciamo le stesse cose interessante questo esempio appunto che facevo dell'errore perché ci fa proprio capire la contrapposizione che c'è tra le attività che sono recuperabili e il tempo che è recuperabile che cosa voglio dire voglio dire che se anche noi commettiamo un errore parliamo di un errore anche banale ad esempio mandiamo un'email a un indirizzo sbagliato possiamo recuperare nel senso che ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto e mandiamo invece una seconda email all'indirizzo corretto quindi l'attività l'abbiamo recuperata ma il tempo non l'abbiamo recuperato quindi il tempo è andato avanti e noi dobbiamo tenere in considerazione il fatto che se abbiamo tempificato in maniera molto stringente tutte le attività che facciamo il rischio di commettere degli errori c'è e quindi se non lo consideriamo potremmo andare poi in affanno su una serie di attività all'interno delle organizzazioni all'interno dei contesti quindi lavorativi possiamo distinguere in tre grandi categorie di E-Macro le attività che vengono svolte poi ovviamente a seconda dei ruoli che uno di noi ha all'interno dell'organizzazione possiamo dedicare più o meno tempo a una macroattività piuttosto che un'altra ma diciamo che sostanzialmente le attività che facciamo noi che lavoriamo appunto all'interno dei contesti organizzativi sono sostanzialmente queste quindi c'è una macro famiglia della pianificazione pianificazione che può essere individuale quindi legata a noi e alle nostre attività oppure una pianificazione anche di gruppo quindi legata alle attività di un team di persone operare quindi la macro famiglia che va sotto il nome di operare ovvero il fare quindi realizzare effettivamente delle cose ad esempio mandare delle email piuttosto che scrivere dei testi piuttosto che fare poi delle operazioni invece o delle attività effettivamente pratiche perché ci sono anche appunto dei lavori sempre all'interno delle organizzazioni che sono appunto pratici e poi abbiamo l'altro mondo quello della gestione delle relazioni anche qua una suggestione che posso offrire è quanto una giornata lavorativa anche in percentuale dedichiamo a ciascuna di queste attività ecco qua già entriamo un po' di più nel mondo del kairos ovvero del tempo soggettivo nel senso che a seconda di quali sono i nostri ruoli all'interno dell'azienda ma anche rispetto a quali sono i nostri obiettivi lavorativi possiamo decidere di dare una prevalenza ad alcune attività piuttosto che ad altre ma riflettere su quanto effettivamente quanto tempo noi effettivamente attribuiamo a una famiglia di attività piuttosto che a un'altra ci può intanto aiutare a capire come è distribuito il nostro tempo lavorativo cominciamo a entrare un pochino più nello specifico della macro famiglia della pianificazione possiamo in qualche modo vedere quali sono le sottoattività di questa grande famiglia e questo ci può ad esempio aiutare ad attribuire un tempo più adeguato più specifico e anche più controllato alle attività che facciamo è un po' quello che si diceva nella slide precedente ovvero la gestione delle attività da collocare nel tempo che abbiamo la pianificazione sostanzialmente è anche forse un po' riduttiva però sostanzialmente è formata da queste attività quindi è la definizione precisa degli obiettivi che dobbiamo raggiungere chiarire con noi stessi ma anche con gli altri le priorità che abbiamo o che comunque il gruppo di lavoro ha identificare i picchi di attività e le principali cause di stress sono elementi molto importanti quello di capire quali sono le situazioni o le attività critiche che ci portano a un dispendio di tempo e di energie ma che ci portano anche appunto stress perché lo stress non dobbiamo sottovalutarlo in quanto può essere un elemento che in qualche modo fa diminuire le nostre performance per riconoscere i ladri del tempo sui ladri del tempo alla fine di questa presentazione ho una slide che riassume quali sono i principali ladri del tempo che sono delle situazioni o delle attività che ci rubano tempo mettere in pratica tecniche di gestione della nostra giornata lavorativa che è quello che vedremo appunto a breve quindi una volta definiti gli obiettivi le priorità le attività che dobbiamo fare mettere in pratica per raggiungere i nostri obiettivi possiamo mettere in pratica anche delle tecniche di gestione delle nostre attività lavorative in questa slide abbiamo parlato appunto di obiettivi ecco un breve cenno a come deve essere un obiettivo questo ci aiuta a identificare obiettivi effettivamente raggiungibili quando noi parliamo di gestione efficace del tempo sostanzialmente non diciamo altro che gestire le attività in maniera appunto efficace ovvero finalizzata all'obiettivo che dobbiamo raggiungere ecco ma già la definizione dell'obiettivo o degli obiettivi è sicuramente un momento importante nella nostra attività lavorativa questa parola che vedete è smart in realtà è un acronimo nel senso che le iniziali sono la parola smart è composta dalle iniziali delle parole che appunto identificano questa tecnica di definizione degli obiettivi ovviamente sono tutte parole inglesi poi la traduzione in italiano ovviamente crea delle differenze noi prendiamo la parola in inglese e poi la traduziamo appunto in italiano allora che cosa vuol dire un obiettivo smart quindi quando è che definisco un obiettivo in modalità smart l'obiettivo smart è l'obiettivo S specifico quindi cosa devo fare l'obiettivo deve essere chiaro conciso circoscritto preciso non deve essere un obiettivo vacu quindi deve essere qualcosa di effettivamente definito questo ci aiuta ovviamente a essere poi più precisi nella definizione delle attività ovviamente ci possono essere diversi livelli di obiettivi obiettivi più macro o anche obiettivi più a lungo termine obiettivi più micro quindi obiettivi e il raggiungimento dei quali ci consente poi di arrivare all'obiettivo macro M misurabile cosa vuol dire un obiettivo misurabile vuol dire che deve essere un obiettivo che noi possiamo quantificare cioè possiamo verificare effettivamente l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo o l'effettiva realizzazione di quelle attività che ci portano a conseguire l'obiettivo stesso quindi a raggiungere l'obiettivo stesso qui abbiamo ecco il conflitto con la parola italiano-inglese la asta per agreed che in italiano viene tradotto con condiviso condiviso ormai noi tutti quanti lavoriamo appunto in contesti dove lavoriamo da soli quindi le attività che facciamo sono comunque collegate con gli altri quindi è molto importante che gli obiettivi che ognuno di noi ha o che abbiamo siano condivisi con il nostro gruppo di lavoro in modo tale che evitiamo cortocircuiti di informazioni e di comprensioni deve essere R raggiungibile quindi non deve essere esclusivamente dipendente da fattori esterti ma deve dipendere il raggiungimento dell'obiettivo dai miei sforzi e deve essere tempificato quindi possiamo ad esempio avere un obiettivo smart quando l'attività che mettiamo all'interno di questo che noi facciamo per raggiungere questo obiettivo possiamo a questa attività possiamo appunto attribuire un obiettivo veniamo adesso a un paio di strumenti che possono essere utilizzati e possono essere utili proprio per fare questa questa migliore gestione delle attività nelle nostre giornate lavorative allora il primo strumento che vi presento ci aiuta ci aiuta maggiormente nella fase di pianificazione il secondo strumento che vi presenterò invece ci aiuta maggiormente nella fase di realizzazione quindi nella fase proprio più operativa questo primo strumento si chiama la griglia di Eisenhower Eisenhower si proprio Eisenhower quello che è stato presidente degli Stati Uniti che prima di essere presidente degli Stati Uniti è stato un generale della seconda guerra mondiale che aveva detto una frase tutto ciò che è importante non è detto che sia urgente e viceversa e quindi poi da questo è nata questa griglia che ovviamente non ha creato effettivamente lui ma poi è stata strutturata invece da altri studiosi ma viene ricordata prevalentemente appunto con il nome appunto di Eisenhower che cos'è la griglia di Eisenhower? innanzitutto prende in considerazione due elementi importanti con i quali noi facciamo i conti tutti i giorni legati ovviamente alle attività ovvero il concetto di urgenza e il concetto di importanza sono due concetti che in qualche modo sono sempre accanto a noi nello svolgimento delle nostre attività ma è importante anche qui capire che sono due concetti profondamente diversi sono entrambi caratteristiche delle attività ma hanno significati diversi le cose importanti hanno una connotazione soggettiva quindi le attività importanti sono le attività che hanno un'importanza per noi per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati le cose urgenti hanno in realtà una connotazione oggettiva cioè sono quelle attività che dobbiamo per forza risolvere smarcare fare che non è detto che siano per forza legate al raggiungimento dei nostri obiettivi ma se non le portiamo a termine o non le facciamo potrebbe andare invece in crisi il raggiungimento dei nostri obiettivi com'è questa griglia? è fatta in questo modo è una matrice dove vengono messe sull'asse dell'ascissa delle ordinate le due dimensioni quindi l'importanza e l'urgenza vengono creati quattro quadranti in questi quattro quadranti appunto le due caratteristiche dell'urgenza e dell'importanza in qualche modo si incrociano perché può essere uno strumento che utilizziamo nella nostra pianificazione? beh perché potremmo ad esempio come esercizio come con l'utilizzo dello strumento provare a collocare le attività che facciamo in questi quattro quadranti prendiamo in considerazione il primo quadrante il quadrante A dove abbiamo attività più importanti e meno urgenti sono quelle attività che contraddistinguono il raggiungimento dei nostri obiettivi cioè sono quelle proprio tipiche della pianificazione quindi non sono attività che dobbiamo svolgere in maniera urgente quindi subito ma sono attività che richiedono la possibilità di essere pianificate quindi possiamo anche dargli un tempo un pochino più ampio ma sono quelle importanti per noi quindi sono quelle che ci portano al raggiungimento degli obiettivi e ovviamente sono le attività che ci danno più soddisfazione perché appunto sono quelle che ci portano a raggiungere i nostri obiettivi se ci spostiamo nel quadrante B abbiamo le attività che sono più importanti e più urgenti quindi sono le attività che hanno che oltre ad avere un'importanza per il raggiungimento dei nostri obiettivi hanno anche un'urgenza e quindi se non le facciamo rischiamo di non portare a termine i nostri obiettivi queste attività diciamo sono un po' la deriva del quadrante A che cosa voglio dire voglio dire che se noi facciamo una buona pianificazione è probabile che le attività le riusciamo a fare le attività nel quadrante A le riusciamo a fare nel tempo dato ma se succede qualche cosa che ci impedisce di farle può succedere e si può rischiare che queste attività poi passino nel quadrante B quindi l'esercizio è proprio quello di cercare di mettere più attività possibile nel quadrante A ma di portarle a termine in modo tale che poi non passino al quadrante B ovviamente le attività nel quadrante B siccome sono urgenti ci possono provocare uno stato di ansia e di agitazione perché appunto devono essere fatte subito gli altri due quadranti il C e il D allora il quadrante C è quello che rappresenta le attività meno importanti e meno urgenti quindi diciamo sono quelle attività che sì in qualche modo hanno possono avere in maniera accidentale qualche impatto sulla nostra giornata lavorativa ma in realtà non è detto che le dobbiamo fare per forza perché non hanno una grande rilevanza né per i nostri obiettivi né hanno un'urgenza e quindi non riguardano ad esempio la risoluzione di un qualche problema per quanto riguarda le attività del quadrante D sono attività meno importanti quindi non sono estrettamente legate al raggiungimento dei nostri obiettivi però sono urgenti cioè sono attività che se non vengono svolte in qualche modo possono produrre dei danni ecco quelle del quadrante D sono delle attività in realtà che si potrebbero delegare perché non sono attività che dobbiamo effettivamente fare noi ma sono attività che potremmo ad esempio delegare a qualcun altro la griglia di Zenhauer ripeto quello che ho detto prima ma ci può aiutare sia in fase di diciamo di pianificazione quindi di provare a mettere tutte le attività che facciamo all'interno di questi quadranti ma anche diciamo così in fase di esercizio ovvero cercare se vogliamo se poi capiamo che abbiamo un gran numero di attività all'interno del quadrante B possiamo cominciare a provare a spostarle negli altri quadranti magari ovviamente modificando in qualche modo le caratteristiche dell'attività di B di adesina ci supporta nella fase di pianificazione che cosa ci può invece aiutare o supportare la fase più operativa quindi quella della realizzazione delle attività un altro strumento che è molto conosciuto è anche insomma ci sono anche dei software informatici o degli strumenti informatici che ci aiutano a farlo che si chiama la to-do list io personalmente sono ancora legata al vecchio foglio di carta quindi al pezzo di carta con la penna per fare la to-do list ma in realtà tutte le suite che utilizziamo nei nostri computer ci sono proprio dei programmi che ci aiutano a fare la to-do list che cos'è la to-do list beh fondamentalmente la lista della spesa è la lista delle attività che dobbiamo realizzare che dobbiamo svolgere all'interno della giornata lavorativa per raggiungere i nostri obiettivi la to-do list è importante è giornaliera cioè qualcosa che noi facciamo la mattina quindi all'inizio della nostra giornata lavorativa e si conclude nella giornata lavorativa quindi ovviamente non è detto che noi gli obiettivi che abbiamo li raggiungiamo all'interno di un giorno dello stesso giorno lavorativo ma sicuramente le attività che facciamo sono finalizzate al raggiungimento dei nostri obiettivi e la to-do list ci aiuta quotidianamente giornalmente a capire come come organizzare la nostra giornata cioè sostanzialmente è lo strumento principale per l'allocazione delle attività all'interno del tempo come è fatta la to-do list in maniera molto molto semplice si prende un foglio dove si mettono una serie di attività la cosa ovviamente importante e quella su cui è importante soffermarsi è l'attribuzione delle priorità alle attività non possiamo fare semplicemente un elenco di attività così buttato su un foglio e poi partire dall'ultima quando facciamo una to-do list dobbiamo mettere in prima posizione l'attività che dobbiamo fare per prima ovviamente la to-do list deve essere uno strumento che ci aiuta quindi innanzitutto io consiglio di usare la matita perché la matita ci permette eventualmente di cancellare di cambiare la posizione delle attività perché è qualche cosa che effettivamente si può fare nel senso che noi cominciamo a scrivere delle attività poi decidiamo che una è più importante dell'altra può succedere che tutte le attività non vengano fatte e quindi se non vengono fatte il giorno dopo si dovrà ripartire dalle attività che non sono state fatte nel momento in cui un'attività la facciamo quindi la completiamo va tracciata una riga sopra quindi va abbarrata con una riga perché vuol dire appunto che l'attività è stata fatta qua insomma ci sono una serie di suggerimenti su come usarla ovviamente anziché usare un semplice foglio di carta si può avere proprio un'agenda nella quale ogni giorno mettiamo una serie di attività oppure degli strumenti appunto informatici man mano che diventiamo più bravi più abili a usarla possiamo anche dare un inizio un tempo iniziale un tempo finale alle nostre attività cioè se diventiamo poi più esperti più bravi siamo anche in grado di capire quanto ci mettiamo per fare determinate attività è un po' poi questo in realtà il vero scopo il vero obiettivo di questi strumenti cioè quello di farci diventare più abili a dare un tempo alla realizzazione di alcune attività che sono rutinare ovviamente ci sono delle attività che svolgiamo quasi tutti i giorni e se ci pensiamo sappiamo quanto tempo ci mettiamo ok ci sono anche una serie di caratteristiche personali che in qualche modo ci ci fanno avere delle to do list diversi gli uni dagli altri ognuno di noi ha un diverso bioritmo nel senso che ci sono persone che cominciano a lavorare tardi e finiscono tardi la sera persone come me e invece cominciano a lavorare presto la mattina e magari poi nel tardo pomeriggio si dedicano ad altre attività ovviamente questo è un elemento importante soprattutto se si lavora insieme agli altri quindi se ci sono una serie di attività che io metto nella mia lista che devo fare con le altre persone ecco bisogna stare attenti al bioritmo personale quindi ai ritmi di vita delle persone nel senso che se io tutti i giorni devo fare delle riunioni ma tutte le persone con le quali io lavoro diventano attive dopo le nove e mezza è inutile che io nella mia to do list metto come prima attività la riunione perché probabilmente la mia prima attività la svolgerò alle otto di mattina ma non potrà essere quella se le altre persone invece sono disponibili dalle nove e mezza in avanti quindi anche questa è una cosa importante soprattutto nel mondo del lavoro di oggi dove assolutamente abbiamo lavori sempre più interconnessi gli uni con gli altri per non parlare poi del fatto che insomma la pandemia e tutto quello che è successo in questi ultimi anni ci ha anche portato ad avere più relazioni magari a distanza ma ad avere un aumentato carico anche di rapporti con le persone proprio perché gli strumenti che ci fanno fare incontri alle regioni a distanza in qualche modo ci hanno anche facilitato ad avere più rapporti con le altre persone avevo detto che avrei fatto vedere brevemente quali sono i cosiddetti ladri del tempo i ladri del tempo sono quelle attività che ci rubano letteralmente tempo sono quelle attività per le quali probabilmente dovremmo tenere uno spazietto nella nostra to-do list o le eliminiamo comunque le dobbiamo in qualche modo considerare sono alcune attività alcune dipendono proprio da noi ad esempio il procrastinare ad esempio l'avere priorità confuse ad esempio il disordine se ci fate caso anche una scrivania o un desktop del computer disordinato è un ladro del tempo se devo cercare un documento e ho un desktop molto con tanti documenti molto con molta confusione perderò del tempo a cercare il documento la stessa cosa con la scrivania e poi ci sono invece delle altre attività che riguardano gli altri o comunque anche i rapporti con gli altri che ci possono portare via tempo ad esempio cortocircuiti comunicativi quindi modalità di comunicazione inefficace ad esempio le capacità di delegare alcune attività se facciamo riferimento alla grado di Senau e al quadrante delle attività che si possono delegare ovvero quelle urgenti ma poco importanti se non siamo capaci a delegare quelle sono attività che dovremmo fare noi e poi c'è tutto il mondo delle interruzioni quindi tutto il mondo delle persone che telefonano delle persone che busano la porta che anche questo tipo di attività in qualche modo deve essere gestito si possono decidere una serie di comportamenti da adottare però poi quello sta alla persona e all'individuo effettivamente metterli in pratica concludo con una serie di spunti appunto di riflessioni che in qualche modo ci possono ci possono aiutare l'attività fondamentale quindi da fare sono sicuramente esaminare gli specchi di tempo che abbiamo e capire effettivamente se certe attività rientrano in qualcuno dei quadranti della greglia di Eisenhower e questo ci può sicuramente dare anche un dimensionamento appunto di queste attività dobbiamo necessariamente dare ordine alle attività nella nostra vita ma anche nel lavoro soprattutto nell'ottica del raggiungimento dei nostri obiettivi i nostri obiettivi teniamo conto che sono sempre collegati anche ai nostri valori quindi dare delle priorità e dare un'importanza alle attività ci aiuta nel conseguire i nostri obiettivi ci aiuta anche a stare meglio perché sicuramente ci fa stare meglio con noi stessi perché facciamo qualche cosa che ci porta a realizzare appunto le nostre aspirazioni adottare comportamenti efficienti ad esempio come abbiamo detto il fissare obiettivi smart è sicuramente un primo modo per adottare comportamenti efficienti quindi fare un ragionamento sui nostri obiettivi e la tecnologia sicuramente ci viene incontro in tutto in tutto questo ripeto io a volte uso ancora carta e penna però effettivamente gli strumenti che abbiamo a disposizione ormai nei nostri pc nei nostri telefoni nel nostro piccolo mondo tecnologico ci possono supportare assolutamente nel fare questo in tutto questo